Buongiorno a tutti e a tutti. Oggi parleremo dell'economia e della logistica nella seconda guerra mondiale. Perché? Perché una guerra non si vince mica solo sui campi di battaglia, anzi in fondo il campo di battaglia è semplicemente una delle tante cose con cui si fa la guerra. Perché per arrivare sul campo di battaglia i soldati devono essere nutriti, vestiti, trasportati, armati, oltre che poi comandati eccetera. Quindi la produzione e la logistica sono fondamentali e nel caso della seconda guerra mondiale sono decisivi per spiegarci come è andata a finire in un certo modo e non in un altro e anche diversi degli avvenimenti della guerra. Partiamo vedendo la situazione dei principali paesi coinvolti nel conflitto nel 1938. Allora abbiamo gli Stati Uniti che sono già il più avanzato dei paesi in questione, tant'è che hanno solo un 18,5% di persone impiegate nell'agricoltura, ben un 37% nell'industria e addirittura un 44,5% nei servizi. Quindi hanno già quel tipo di economia di distribuzione per settori produttivi della popolazione che da noi in Europa avremo solo dopo la seconda guerra mondiale. Poi abbiamo l'Inghilterra che è una società abbastanza simile, nel senso che addirittura lì solo un 5% della popolazione è impiegata in agricoltura, ben il 50% nell'industria e un 45% nei servizi. Poi abbiamo la Germania nazista che è sempre una società abbastanza simile, un 28,5% di agricoltori, un 47,3% di operai e un 24,2% addetto ai servizi. In Francia, già la Francia è una nazione più arretrata, con un 35% di contadini, un 31% di operai e un 34% addetti ai servizi. E poi c'è l'Italia, l'Italia è tra queste che compaiono in questo schema la più arretrata, tant'è che abbiamo addirittura un 54% di contadini e solo un 25% di operai e un 21% di addetti all'industria. Quindi la distribuzione della popolazione attiva è sbilanciata a favore dell'agricoltura e questo denota il fatto che c'è un'agricoltura che è ancora poco meccanizzata, che è ancora arretrata e un'industria e dei servizi ancora poco sviluppati. Poi abbiamo il Giappone che è in condizioni in realtà abbastanza simili, 46% in agricoltura, 25% nell'industria e 29% nei servizi. Anche qui abbiamo un paese con delle forti arretratezze. L'Unione Sovietica è una cosa strana, cioè abbiamo ancora un 45% di addetti all'agricoltura, ma c'è già un 34,5% di addetti all'industria e solo un 18% di addetti ai servizi. Questo ci fa capire quanto l'URSS sia un paese che ha avuto uno sviluppo industriale tumultuoso negli ultimi decenni, soprattutto nel corso degli anni 30 e abbia ancora un'economia abbastanza arretrata, è un'agricoltura con non troppi mezzi, un'economia comunque arretrata per quello che si vede dai servizi, però è comunque un paese che ha un'importante produzione industriale, visto il numero di addetti. I mobilitati in guerra. Allora vedete il blocco rosso proprio al centro dello schermo, allora vedete in nero, in verde, e poi nelle altre cose di grigio sono sostanzialmente gli stati dell'asse, in nero i tedeschi, in verde gli italiani, poi abbiamo i giapponesi in bianco e poi vabbè le potenze minori dell'asse, rumeni, bulgari, ungheresi, eccetera, le varie truppe collaborazioniste che si schierano, collaborazioniste o comunque regimi legati alla Germania nazista che si schierano con le forze dell'asse. Dopodiché qui invece abbiamo le truppe alleate e qui vediamo che il record di mobilitati, con addirittura 34 milioni a fronte dei 18 milioni di tedeschi, il record assoluto di mobilitati ce l'hanno i sovietici. Vedete questo grosso blocco rosso, sono i sovietici, è l'armata rossa che vedete emerge come quello che nel fronte alleato ci mette, è il paese che ci mette più soldati. Poi abbiamo comunque gli Stati Uniti con 16 milioni di mobilitati e poi sorpresa per le narrazioni a cui siamo abituati sulla seconda guerra mondiale perché tendiamo sempre a dimenticarne il ruolo, abbiamo la Cina con ben 14 milioni di mobilitati, segue il Regno Unito e le sue colonie con 5 milioni di mobilitati, compreso anche il Canada, quando diciamo Regno Unito diciamo anche il Dominion del Canada e dell'Australia che vedete sono in Nuova Zelanda, che vedete sono tutti riuniti sotto lo stesso colore, poi ci sono i francesi con i loro 5 milioni di mobilitati, anche se insomma la Francia viene subito invasa, molti finiscono in prigionia, altri scappano in Inghilterra e nelle colonie con De Gaulle, altri con il regime di Vichy, poi torneranno dal lato degli americani, insomma la situazione francese è abbastanza complessa e poi le varie potenze minori, Norvegia, Polonia, Grecia, Belgio eccetera, Jugoslavia che vengono poi occupate dai nazisti, però insomma il grosso qui vediamo Urss, Stati Uniti, Cina e Regno Unito con i suoi Dominions e le sue colonie che hanno un ruolo centrale. Anche dal punto di vista dei soldati, ci saranno soldati indiani e pakistani che per esempio verranno a combattere in Italia dopo il 1943 che parteciperanno alla liberazione dell'Italia, questa è un'altra cosa che non bisogna mai dimenticare, così come quando diciamo sovietici intendiamo anche le popolazioni del Turkmenistan, dell'Asia centrale, generalmente musulmane, quindi centroasiatiche, dall'altro lato quando diciamo Regno Unito, diciamo anche le sue colonie, quindi diciamo anche australiani, canadesi, indiani, pakistani eccetera. La produzione, ecco la produzione qui si vede appieno la sproporzione tra i due schieramenti, allora da questo lato qui abbiamo le truppe dell'asse e da questo lato qui abbiamo invece gli alleati, davanti i cannoni, dietro i carri armati e poi i veicoli motorizzati, i camion. Allora, mentre la produzione di cannoni, di artiglieria, è dominante quella sovietica che ne produce più di tutti gli altri, come vedete, anche se gli Stati Uniti e l'Inghilterra, gli Stati Uniti in blu, l'Inghilterra in azzurro e l'Unione Sovietica in rosso, anche se l'Inghilterra e gli Stati Uniti fanno la loro parte, poi abbiamo una produzione di carri armati e anche qui l'Unione Sovietica è quella che ne produce di più, ma gli Stati Uniti e l'Inghilterra comunque fanno il loro, anche loro ne sfornano parecchi, ma poi abbiamo la produzione di camion degli Stati Uniti, che è una roba incredibile, tant'è che sono quelli che riforniranno di camion tutti i loro alleati, oltre che il loro esercito, che saranno i primi ad avere un esercito pienamente meccanizzato, mentre lo stesso non si può dire dall'altro lato, guardate la produzione giapponese, quella tedesca e quella italiana, ma anche quella tedesca non ci arriva neanche lontanamente vicino alla produzione di camion, di mezzi motorizzati americani, che infatti arriveranno ad avere un esercito appunto pienamente meccanizzato, mentre gli altri hanno ancora le colonne con i carriaggi in fondo, almeno in parte. E poi c'è la produzione di aerei. Ecco, la produzione di aerei all'inizio sembra che le forze dell'asse nel 1938-39 siano in parità, se non in vantaggio, con quelli che saranno i paesi alleati, ma vengono rapidamente surclassati. Allora, nel corso della guerra, gli americani saranno quelli che ne produrranno in assoluto di più, come si vede dal grafico, arriveranno a 328 mila aerei, il Regno Unito 136 mila, l'Unione Sovietica 162 mila, i tedeschi riescono a reggere, sulla produzione di aerei riescono a reggere, almeno nel paragone con il Regno Unito e l'Unione Sovietica, perché producono 124 mila aerei. I giapponesi ci provano con i loro 99 mila aerei, gli italiani assolutamente fuori dai giochi con i loro 11 mila aerei. Cioè, la loro capacità produttiva, mentre la capacità produttiva degli Stati Uniti aumenta di 27 volte, quella inglese di 9 volte, quella sovietica di 7 volte, quella tedesca di 7,4, quella giapponese anche loro di 8 volte, quella italiana solo di 2,5 volte. Quindi questo ci fa capire il grosso problema che gli italiani non hanno un'industria in grado, anche messa sotto pressione, di sostenere lo sforzo bellico. Gli altri, quando iniziano a produrre una cosa, moltiplicano quelle produzioni, se è qualcosa di strategico, gli italiani non ce la fanno. E questa cosa della produzione aeronautica è forte. E poi c'è la produzione di petrolio. La produzione di petrolio, anche qui la sproporzione è enorme. Tutti questi barili in blu e anche questi in azzurro, quelli in blu sono proprio gli Stati Uniti, il resto è il Sud America, che comunque lavoravano per gli Stati Uniti durante la guerra e hanno questa produzione schiacciante. E poi c'è la grossa produzione sovietica. I giapponesi possono contare su quello che producono loro, questo barile in nero. E poi il resto dell'Asia, delle Indie olandesi qui sopra. Qui sopra. E sostanzialmente quindi riserve molto più limitate di quelli degli Stati Uniti. E poi quando gli Stati Uniti saranno in grado con la flotta nel 43-44 di tagliargli i contatti con le Indie olandesi, inizieranno a fargli fuori il resto dell'Asia, rimarranno proprio a corto di benzina. C'è l'Iran che ha questa produzione impressionante ed è il motivo per cui i nazisti sono molto interessati all'alleanza con lo Shah di Persia, che sembra all'inizio voglia schierarsi dalla loro, ma rapidamente nel 41 inglesi e sovietici occupano l'Iran e continueranno a occuparlo fino al 45 proprio per controllare queste riserve di petrolio. I nazisti anche loro hanno ben poco petrolio in casa, ma possono contare sui pozzi della Romania. Come vedete anche da questo schema qui, il petrolio che hanno in Germania, in Austria i nazisti è ridicolo, ma hanno i pozzi romeni che in qualche modo li tengono in piedi. Dopodiché non sono sufficienti al loro fabbisogno e soprattutto dopo il 44 la Romania non ce l'avranno più e quindi inizieranno a produrre benzina sintetica. Ecco questo è un aspetto molto importante, i nazisti producono benzina sintetica, cioè tentare di allungare la poca benzina che hanno in tutti i modi, ma questi impianti di benzina sintetica che vedete nel 44 partono producendone un bel po', ma poi si ritrovano sotto le bombe anglo-americane e quindi la loro produzione, li saltano in aria gli impianti, la loro produzione di benzina sintetica crolla. E questo vi spiega anche perché quando i nazisti sono all'offensiva fanno due investimenti, uno sostenendo lo sforzo italiano dalla Libia verso l'Egitto e il resto del Medio Oriente mandando Rommel con l'Africa Corps, dall'altro lato mandando invece la spedizione che doveva arrivare nel Caucaso, nei pozzi petroliferi di Bacque, viene in realtà fermata a Stalingrado e le truppe che riescono a infilarsi giù nel Caucaso non arriveranno mai ai pozzi petroliferi e questo ci fa capire, uno, quanto la storia del petrolio sia legata allo svolgimento della guerra. In ballo c'erano i pozzi petroliferi del Caucaso e per quello che si sono andati a infilare a Stalingrado che sarà il punto di svolta della guerra. Dall'altro lato questo ci fa capire che quegli aspetti di cui sappiamo poco, cioè quando tra il 40 e il 41 gli inglesi riprendono il controllo dell'Iraq assieme ai sovietici prendono il controllo dell'Iran che allora si chiamava Persia, quando buttano a mare le forze francesi di Vichy in Siria per evitare ogni minaccia in Medio Oriente e queste cose in realtà di cui non ci sono neanche sui libri di scuola però sono strategiche perché chi controlla le risorse petrolifere poi è facilitato nel vincere la guerra. Altra cosa, gli americani abbiamo visto con i loro rifornimenti di mezzi, con la loro capacità produttiva per quanto riguardava i camion, i mezzi motorizzati, hanno un ruolo centrale. Sono il vero e proprio arsenale produttivo di tutto il fronte alleato, compresa l'Unione Sovietica perché guardate la legge affitti e prestiti prima ancora di entrare in guerra la fanno a favore dell'Inghilterra, cioè crediti illimitato, proprio prestiti, non solo soldi, proprio prestiti di materiali, ma poi verrà estesa anche a favore dell'Unione Sovietica. Diciamo, vi ho detto la volta scorsa, i sovietici hanno distrutto il 70% delle armate naziste però dietro avevano anche rifornimenti americani, questa cosa non bisogna dimenticarla. È molto una guerra quella contro i nazisti in cui i sovietici combattono e gli americani li riforniscono, c'è questo aspetto qui. Gli americani sono molto bravi nella logistica, viene da dire più bravi nella logistica che sul campo di battaglia. Le armi degli Stati Uniti, prodotte dagli Stati Uniti, vanno soprattutto agli inglesi, misura minore i sovietici, i sovietici le loro armi se le producono loro, i carri armati ai sovietici gliene arrivano proprio pochi e tanti agli inglesi, anche perché i carri armati sovietici sono anche francamente meglio di quelli degli stati unitensi. Cos'è che arriva i sovietici a piene mani? Le locomotive, i carri merci, ecco, per meccanizzare l'armata rossa, l'armata rossa i sovietici ce la fanno produrre carri armati ma per meccanizzare tutto il loro esercito, cioè metterlo su camion, il contributo americano è indispensabile, tant'è che le cose in rosso sono quelle che toccano i sovietici, mentre quelle in blu agli inglesi e quelle in azzurrino alla Francia libera. Ovviamente agli inglesi arriva il grosso del materiale, però insomma i camion, le locomotive, i carri merci sono determinanti, sono determinanti anche per i sovietici. Come fanno a portare quello che serve farlo recapitare agli inglesi? Devono attraversare l'Atlantico, attraversare l'Atlantico non è uno scherzo perché ci sono gli U-Boat, ci sono i sommergibili tedeschi e i tedeschi hanno contato, come faranno anche nella prima guerra mondiale, che se loro riescono ad affondare abbastanza navi che vanno verso l'Inghilterra, l'Inghilterra è alla fame, non gli arrivano i rifornimenti e quindi hanno vinto. E quindi tenere aperta la rotta atlantica è decisiva e quindi qui vedete sopra nello schema la produzione di navi da trasporto degli alleati e sotto quelle che gli affondano i tedeschi con gli U-Boat. E il 42 è un anno drammatico, sono più quelle che gli affondano i tedeschi che quelle che loro riescono a produrre, però già l'anno dopo sono molte di più quelle che loro riescono a produrre perché i cantieri americani entrano a pieno regime, mentre sono molte meno quelle che i nazisti riescono ad affondargli. Perché? Perché ormai l'Atlantico dal 43 lo controllano assolutamente gli angloamericani attraverso aerei incaricati da raccacce insommergibili, sonar, radar, navi con bombe di profondità per far fuori i sommergibili e quindi vincono la battaglia dell'Atlantico che insomma è una battaglia della logistica oltre che combattuta con i cannoni, i siluri e le bombe di profondità ma è decisiva. I nazisti invece cosa fanno? Sfruttano l'Europa conquistata, la sfruttano come materie prime, la sfruttano mettendo la popolazione a produrre, ma saccheggiano non solo i beni, i soldi, le materie prime, ma proprio saccheggiano le persone, portano via le persone, arruolano civili stranieri per lavorare soprattutto nelle loro acciaierie, nella loro agricoltura, anche nelle loro costruzioni, nelle loro miniere, ma non solo civili che attirano in qualche modo, ricordatevi che i civili slavi, per esempio i polacchi anche quando sono mano d'opera civile, sono sempre sottoposti alle rigidissime leggi naziste per quanto riguarda quella che i nazisti chiamavano igiene razziale, cioè se un polacco andava con una donna tedesca lo impiccavano, ma poi ci portano proprio i deportati, ci portano i prigionieri catturati, la mano d'opera schiavile, addirittura l'11% degli addetti all'agricoltura tedesca nel 44, questo schema è sul 44, sarà fatto di prigionieri, l'8,7 dei trasporti, il 5,2 degli addetti all'acciaierie, il 18,4 degli addetti alle miniere, cioè stiamo parlando di mano d'opera ridotta in condizioni di schiavitù, il sistema economico nazista diventa un sistema schiavile, un sistema economico che però risente dei bombardamenti alleati, il 51% dei bombardamenti alleati vanno proprio sul territorio del Reich, il 20% sulla Francia occupata, il 13% sull'Italia e si comincia in cui fino al 44 bombardano soprattutto gli inglesi e poi fanno a metà inglesi e americani. La distruzione delle città tedesche è terrificante, viene distrutta il 61% di Colonia, il 54% di Dortmund, il 42% di Monaco, il 52% di Francoforte, il 64% di Dussendorf e sono anche queste stragi di massa, ad Hamburgo muoiono in una botta solo a 43 mila civili, a Dresda 25 mila, Wolfsburg 5 mila, cioè sono anche queste stragi di massa che vengono fatte per colpire la popolazione e il sistema produttivo del terzo Reich nazista. Allora, come fonti io vi lascio consigliandovi una puntata del tempo e la storia sulla battaglia dell'Atlantico, poi c'è queste infografiche che ho usato, vengono tutte dall'infografica sulla seconda guerra mondiale, che è un libro che vi consiglio, è splendido, è molto chiaro e poi c'è il libro di Gozzali, lo stato sociale di Hitler che fa capire come l'ideologia nazista partoriva delle politiche economiche precise. Grazie, arrivederci.